Ben trovati, ci troviamo a Torbole, sull'alto Lago di Garda, siamo con Arrigo Iacobitti, che è il titolare dell'Eco Hotel Bonapace. Buongiorno Arrigo. Ah, buongiorno, buongiorno. Allora, intanto quest'anno fa un caldo terrificante, qui si sente. Com'è la situazione? Ecco, i clienti arrivano, cercano un po' rinfresco magari sul lago? Sì, allora, finalmente sono tornati i nostri clienti abituali, abbiamo moltissimi stranieri, tra cui tedeschi e austriaci, ma anche gli italiani adesso hanno scoperto il lago in quest'ultimo periodo e quindi diciamo che abbiamo anche questa clientela di italiani che vengono qui, soprattutto per fare una vacanza attiva, visto che abbiamo bellissime passeggiate da fare, piste ciclabili, un lago, come diceva Roberto, bello fresco, dove fare anche sport, semplicemente stare in acqua e quindi vedo che è molto apprezzato questa parte di lago che offre sia montagna che acqua. Ecco, le temperature sono affose in questo momento, però la notte calano e si dorme bene, no? Sì, poi noi abbiamo un sistema di raffrescamento dell'aria che non è aria condizionata, proprio perché è un albergo ecologico e quindi eliminiamo l'umidità dall'aria e questo ci permette anche di avere delle temperature un po' più alte in casa, però sopportabilissime e non si ha uno shock termico nel momento in cui si esce all'esterno. Ecco, Arrigo, quali sono le novità di quest'anno delle Cotel Bonapace? Abbiamo pensato di sfruttare al meglio il nostro terrazzo di copertura dove c'è presente già adesso un solarium con una vasca idromassaggio e quindi abbiamo creato una parte di terrazzo riservata per chi vuole, ad esempio, dormire sotto le stelle perché pensiamo che siamo anche in un posto naturalistico, molto tranquillo e quindi poter assaporare sia di notte la vista del lago in notturna che delle stelle oppure abbiamo la possibilità anche di dare la vasca idromassaggio ad uso esclusivo notturno e sono tutte esperienze che non si fanno normalmente abitando in una città. E in più, volendo, possiamo fare anche una colazione portata proprio sul terrazzo, servita sul terrazzo e quindi è un'esperienza tutto tondo, immersi nella natura. Perfetto, vogliamo dare i dati al sito internet almeno per potervi contattare? Certo, il nostro sito internet è www.ecotelbonapace.com Benissimo, qui da Torbole è tutto, ringrazio Arrigo per la disponibilità e buon estate a tutti. Grazie, a presto, arrivederci.